Ben tornati con la seconda parte della puntata di oggi continuiamo il nostro viaggio nella storia della musica e veramente oggi parliamo di storia della musica perché abbiamo qui con noi Piero Cassano e Fabio Perversi due membri storici dei Mattia Bazzar benvenuti grazie entriamo subito nel vivo di oggi Piero tu sei uno dei fondatori di Mattia Bazzar Fabio ne fai parte da tantissimi anni e sappiamo che quest'anno ricorre un'occasione importantissima perché voi festeggiate 40 anni di carriera cosa significa per voi questo momento? Beh chiaramente è un traguardo che io posso dire pochi francamente pochi artisti hanno raggiunto e per noi è un motivo veramente di orgoglio anche perché il Mattia Bazzar è un po' non solo fare musica ma anche uno stile di vita noi siamo cresciuti io Giancarlo che siamo ancora i due storici rimasti siamo diventati uomini attraverso il Mattia Bazzar abbiamo incominciato proprio da ragazzi giovani e ci siamo formati abbiamo imparato le regole della vita le regole dello stare insieme le regole di fare musica i comportamenti che sono assolutamente importanti nel nostro ambiente poi quindi non solo musica ma uno stile di vita sì sì assolutamente noi amiamo sempre dire che ci siamo fatti veramente uomini attraverso tutti questi 40 anni poi per fare un paragone calcistico siamo proprio come una squadra di calcio giusto guarda anche tutti i vari cambiamenti il nome rimane sempre quello i partecipanti alle varie partite sono certe volte diversi per cui vari cambi di cantanti vari cambi di altri strumentisti che hanno fatto parte dei Mattia Bazzar abbiamo delle regole come appunto quando sta in campo un portiere non può fare l'attaccante e viceversa per cui ognuno di noi ha un compito e forse anche per questo i 40 anni sono importanti è un po' il segreto della durata del vostro successo sì come la grande squadra cambiano i campioni però il marchio rimane sempre quello mi sembra un paragone più che azzeccato che cosa state organizzando per festeggiare questo momento? allora i 40 anni come diceva Piero sono un traguardo molto importante noi abbiamo in procinto di uscita un DVD una raccolta di vari concerti che abbiamo fatto in questi ultimi due o tre anni di tournée è il primo perché in realtà i Mattia Bazzar non hanno mai fatto una raccolta è un concerto messo su DVD dal vivo non è il classico concerto che uno si siede sul bel divano e si guarda dall'inizio alla fine ma è anche un backstage per cui è alimentato da varie curiosità curiosità esatto interviste anche di persone a noi vicine amici per cui sarà curioso anche da parte di chi andrà a comprarlo visionare questo prodotto assolutamente a proposito di concerti voi nel vostro passato avete partecipato tantissime volte a Sanremo Sanremo che avete anche vinto due volte nel 78 e nel 2002 che emozioni vi ha lasciato sia la partecipazione alla Kermess sia le vittorie che avete conquistato? beh guarda dunque il marchio quindi insieme siamo accomunati proprio a queste due vittorie a un terzo posto del 2001 vittoria del 78, vittoria del 2002 e terzo posto del 2001 beh che dire è chiaramente un'emozione incredibile quella di salire sul palco perché si dice no io vado intanto l'importante è partecipare di qui mica vero cioè tu vuoi andare e vuoi cercare assolutamente il podio come le grandi squadre ma sì sempre come le grandi squadre io ti posso parlare guarda c'è una cosa che è una curiosità assoluta ti posso parlare del 78 poi Fabio ti parlerà del 2002 nel 78 noi andiamo addirittura contro il volere della casa discografica fai conto che in pratica ci credevamo solo noi Mattia no? ad un esito fai conto che la sera della vittoria noi non avevamo più né l'albergo né un ristorante prenotato perché non ci credeva nessuno pensavano che... pescaramanzia non avete prenotato nulla? no no la discografia pensava che noi non ce l'avreste fatta non ce l'avremmo fatta quindi invece poi ci dovemmo fermare per le solite interviste di rito i giornalisti di tutte e in più e quindi fermarci anche a dormire e mi ricordo che andiamo a dormire oltre confine per poi ritornare l'indomani queste piccole chicche chiaramente il ricordo bellissimo emozionante perché oltretutto in quell'anno nell'anno del 78 la RAI boicottò un pochettino il festival di Sanremo e trasmise solo la serata finale per cui un motivo d'orgoglio in più essere arrivati poi al grande pubblico attraverso la televisione e a proposito di Sanremo si sta avvicinando l'edizione di quest'anno che cosa ne pensate? innanzitutto Carlo Conti è un grande intenditore è uno che sa di musica meno male per fortuna perché da quando ci fu Pippo senza nulla togliere a tutti gli altri veramente non c'era un vero intenditore per cui il nostro è un in bocca al lupo che facciamo a lui poi i partecipanti è un po' come quando vai al pranzo di un matrimonio c'è sempre quello che si è trovato bene quello che ha da dire ognuno di noi ha ovviamente delle critiche che si possono sollevare a priori poi sul campo si vedrà vedremo come si comporterà ognuno poi lì deve dimostrare il vero valore cioè grazie a Dio io dico questo attraverso Carlo che è un grande cultore un grande conoscitore della musica ma soprattutto capisce molto bene le melodie quelle che valgono e quelle che non valgono nulla o presto poco nulla Carlo ha creato io credo un cast dove tiene presente il passato attraverso i Masini i Raff un passato un pochettino più recente tipo Malika Ianne e invece il presente che è quello devo dire ahimè perché io poi ho un mio personale e giudizio per ciò che riguarda i talent che riguardano i vari talent però ci sono i DR Jack ci sono tanti ragazzi che sono usciti da questi talent per cui molto probabilmente il mio essere un po' contro i talent mi chiama un po' fuori da tutto il contesto ma come mai a cosa è dovuto a cosa è dovuto questa opinione su sai perché? perché ho visto troppi ragazzi partecipare ai talent purtroppo io credo un po' usati sia dalla discografia che dalla televisione credo che la televisione sia un po' troppo padrona e quindi la discografia è un po' asservita alla televisione stessa quindi lancia in un marasma generale un sacco di giovani crea per tre mesi degli idoli e poi purtroppo finiti questi tre mesi per la maggior parte di loro ritorna un anonimato che fa male professionalmente ma io credo che faccia più male ancora umanamente parlando certo, delle stelle passeggeri invece voi avete anche collaborato con dei grandissimi della musica italiana Piero tu hai scritto tantissime canzoni per Eros Ramazzotti Fabio Vanta ha delle collaborazioni con Renato Zero e Fausto Leali quindi avete con Antonella Ruggero con Antonella Ruggero con Antonella cantante storica del vostro gruppo però sappiamo che adesso siete molto legati ai su Lutumana che abbiamo avuto qua in studio prima grandissimi grandissimi siete i produttori nonché i direttori artistici del loro ultimo lavoro ma anche di tanti altri io volevo sapere come è nato l'incontro con loro e che cosa vi ha unito così tanto allora parlo un attimo io definisco il Solutumana quando la musica si fa poesia e la poesia si fa musica qui si sta parlando esclusivamente di Solutumana sono veramente veramente bravi e ritengo che abbiano raccolto veramente un po' poco rispetto a quello che è il loro valore effettivo artisticamente parlando e non solo anche umanamente il Solutumana sono un gruppo tutto ancora da scoprire e noi stiamo lavorando proprio per questo stiamo cercando di portarli alla massa loro sono molto bravi sono soprattutto dal vivo ecco questo io consiglio tutti quelli che non hanno ancora avuto modo di vederli dal vivo sono veramente una potenza sono molto coinvolgenti e non perché ci stiamo lavorando noi ma perché è un dato di fatto questo per cui io voglio invitare tutte le persone che non l'hanno ancora fatto ma anche quelle che l'hanno fatto perché lo sanno ma soprattutto quelle che non hanno ancora fatto di venire a vedere dei concerti dei Solutumana e noi andremo a Teatro San Teodoro sabato per gustarci una volta di più l'altro giorno eravamo con loro alla Radio Svizzera a Lugano un successo incredibile e quindi andremo anche a San Teodoro perché quando la musica si fa poesia e la poesia si fa musica stiamo parlando dei Solutumana perfetto io direi che su questa proverbiale frase possiamo salutare i nostri telespettatori io vi ringrazio per essere stati con noi grazie a te l'appuntamento quindi lo ricordiamo è per domani sera alle 21 al Teatro San Teodoro di Cantù con i Solutumana ok grazie a tutti grazie a tutti a Grazie a tutti.